Buongiorno dalla telegiornale di Antena Sud, primo appuntamento con la nostra informazione in diretta della giornata che apriamo con una notizia riguardante i vaccini. Non c'è reato ma scelta inopportuna rispetto ai fragili. Con questa motivazione la procura di Bari ha archiviato l'inchiesta sui cosiddetti furbetti del vaccino. Ci sono gli imprenditori baresi Domenico e Luigi De Bartolomeo, il primo ex presidente di Confindustria Puglia, Nicola Canonico e ancora 34 persone tra amministrativi e paramedici di studi medici, due farmacisti, una guardia giurata e otto dipendenti di AQP. Per loro in tutto 48 persone la procura di Bari ha chiesto l'archiviazione, sarebbero i cosiddetti furbetti dei vaccini covid di PM baresi, avrebbero accertato l'infondatezza delle accuse. All'indagati erano contestati reati di false dichiarazioni sull'identità, truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale e falso ideologico. La gran parte di loro sono stati vaccinate a gennaio del 2021 quando le somministrazioni erano riservate al personale sanitario ospedaliero e alle RSA. Dalle indagini è emerso che tutti sono stati contattati dall'Aslo, da associazioni di categoria per sottoporsi al vaccino sulla base di una interpretazione delle circolari regionali che ha consentito di estendere la vaccinazione anche a persone in contatto con gli ambienti sanitari. Per esempio gli imprenditori le cui imprese lavoravano alla manutenzione di reparti ospedalieri. Nella richiesta di archiviazione firmata dal procuratore Roberto Rossi, dall'aggiunto Alessio Coccioli e dal PM Baldo Pisani, gli inquirenti spiegano che non c'è reato ma scelta inopportuna rispetto ai fragili. Con riferimento alla posizione dei tre imprenditori, i PM spiegano che questi sono stati vaccinati in quanto in contatto con potenziali fonti di contagio in ambiente sanitario. E restiamo a parlare di sanità però per degli aspetti più positivi. Buone notizie dal fronte sanitario. Infatti non ci sarebbe rischio recrudescenza dei contagi Covid come in Gran Bretagna. Le rassicurazioni giungono dall'assessore regionale Pierluigi Lopalco. Intanto avanti tutta con le terze dosi. 700 vaccinazioni in due giorni. La campagna vaccinale per la terza dose anti-Covid entra nel vivo anche nell'area metropolitana dell'ASL Bari. Il nucleo operativo aziendale guidato dal direttore sanitario Silvana Fornelli e il dipartimento di prevenzione diretto da Domenico Lagravinese hanno stilato un programma di sedute organizzate direttamente all'interno di oltre 140 punti di erogazione tra strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie, centri di urni e centri di riabilitazione. Il team mobile somministrerà vaccini in quattro diverse strutture baresi. Si parte da Villa Giovanna con 169 terze dosi e poi a seguire Villa Marica e San Gabriele, quindi tappa al centro medico di riabilitazione funzionale Riabilia per il completamento delle 361 somministrazioni previste. La terza dose è raccomandata per gli ospiti e gli operatori delle RSA, tra questi anche Nonna Maria, 95 anni, che nella mattinata di mercoledì ha ricevuto la sua terza dose a Villa Giovanna. Adesso siamo al completo, ha detto rivolgendosi alla dottoressa Antonella Spica, che l'ha vaccinata per la terza volta. Sono quasi 3 milioni di pugliesi che hanno completato il ciclo vaccinale anti-covid, esclusi gli under 12 che non possono essere immunizzati al momento. Sono circa 400 mila quelli che invece non hanno ancora ricevuto neanche una dose. Complessivamente in Puglia è stato somministrato l'87,1% delle dosi disponibili. Il nostro paese, ha detto l'assessore per la sanità Pierluigi Lopalco, al netto dell'imprevedibilità legata al comportamento del virus, non dovrebbe rischiare una recrudescenza pandemica come sta avvenendo in Gran Bretagna. Ed esistono problemi invece per i lavoratori del 118 di Taranto e il servizio del nostro direttore Gianni Sebastio. Licenziati gli operatori del servizio 118 della ASL di Taranto dal 31 ottobre prossimo andranno in cassa integrazione a zero ore i dipendenti che garantiscono il servizio nel territorio ionico e quanto denunciano i sindacati di categoria CGL, Cisle e Will. Il provvedimento fanno sapere e lascerà la comunità ionica priva di un servizio sanitario essenziale ed esporrà le famiglie degli operatori dipendenti e volontari che da anni attendono condizioni di lavoro normali alle incertezze sul loro futuro. Tutto accade alla vigilia della cosiddetta internalizzazione del servizio 118 con affidamento alla sanità service che dovrebbe dare stabilità a 384 operatori. Le sigle sindacali si rivolgono al prefetto di Taranto, al questore e al direttore generale della ASL Ionica chiedendo l'immediata convocazione di un incontro al fine di dirimere l'avvertenza. Inoltre i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione di tutti gli operatori del servizio e comunicano che il prossimo 28 ottobre dalle 9 alle 12 ci sarà un sit-in di protesta dinanzi alla sede della ASL in Viale Virgilio a Taranto. La manifestazione concludono i sindacalisti, Lorenzo Caldaralo della CGL, Massimo Ferri della CISL ed Emiliano Messina della UIL avverrà nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'emergenza sanitaria. E cambiamo argomento, ci sarebbero condannati per mafie appartenenti alle famiglie criminali del capoluogo pugliese 309 indagati che avrebbero percepito illegalmente il reddito di cittadinanza per complessivi 900 mila euro. Ci sarebbe anche un boss del nord barese del clan mafioso cannito Lattanzio condannato per mafia e per tentato omicidio tra coloro i quali avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza e ancora numerosi pluri pregiudicati dei clan baresi capriati di Cosola, Strisciuglio, Diomede Mercante e loro familiari. Sono 109 gli indagati per complessivi 900 mila euro nelle province di Bari e Barletta, Andri e Trani, tra condannati per mafia o familiari di pregiudicati per reati mafiosi. La Guardia di Finanza ha eseguito altrettanti provvedimenti di sequestro al termine dell'operazione Berita, scordinate dalle procure di Bari e Trani. È stato disposto il sequestro sia delle disponibilità finanziarie, provento del reato, sia delle carte posta materre di C, utilizzate dagli indagati per prelevare il sussidio. I finanzieri, in collaborazione con le direzioni provinciali dell'Inps, hanno analizzato le posizioni dei soggetti gravati da sentenze di condanna definitiva per reati di mafia e dei loro familiari, accertando così che 37 condannati e 72 loro parenti per mesi avrebbero percepito indebitamente il sussidio, omettendo di comunicare le condanne. Oltre al sequestro penale, gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'Inps per l'adozione di provvedimenti di decadenza o di revoca dei benefici illecitamente erogati e per l'avvio delle azioni di recupero dell'indebito percepito. E andiamo a V.S. Pene detentive per quasi 200 anni per capi e gregari della malla locale. Ieri le condanne di primo grado dell'aula bunker di Bitonto per i clan coinvolti nell'operazione neve di marzo. Pene detentive per circa 200 anni che hanno colpito capi e gregari di gruppi criminali operanti nel territorio di Vieste, ma non solo nell'aula bunker di Bitonto nelle scorse ore. Il Tribunale di Bari ha condannato in primo grado a vario titolo 22 imputati, molti dei quali arrestati nell'ottobre del 2019 dai carabinieri del nucleo investigativo di Foggia a seguito della maxi operazione neve di marzo coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Tre condannati figura Marco Raduano, 3 anni e 4 mesi di reclusione, Liber Antonio Azzarone a 5 anni e 4 mesi, Marco Langi a 10 anni e 4 mesi, condannati a 18 anni e 12 anni di carcere, rispettivamente Orazio Lucio e Davide Carpano. Condannati con un importante sconto di pena anche i due collaboratori di giustizia Danilo Pietro della Malva a 8 anni di reclusione e Giovanni Surano a 5 anni e 4 mesi, il cui prezioso apporto probatorio ha ulteriormente sostenuto le accuse dell'autorità giudiziaria barese. Durante le indagini iniziate nell'estate del 2017 diversi erano stati gli arresti compiuti dagli investigatori dell'arma, così come i recuperi d'ingenti quantitativi di droga e armi anche da guerra. Il contesto criminale aveva permesso di ricostruire i nuovi scenari criminali di Vieste per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti tra due fazioni antagoniste. Una sorta di assestamento di ruoli e gerarchie dopo l'arresto di Marco Raduano e in precedenza di altri suoi affiliati che aveva lasciato un vuoto nei traffici illeciti garganici. E apriamo una vasta pagina dedicata alla politica. Partendo dal Partito Democratico entra nel vivo infatti la fase congressuale e in sé i consiglieri regionali provano a blindare Marco Lacarra. Un affronte alternativo potrebbe compattarsi invece attorno alla brindisina Elisa Mariano. Il postvoto delle amministrative per i democratici pugliesi coincide con il congresso. Entro venerdì si depositeranno le candidature per il rinnovo dai vertici del partito in vista del voto di novembre e così in sé i consiglieri regionali escono allo scoperto e parlano apertamente di un bis di Marco Lacarra nella sede barese di Viare David. Vuol dire quasi la metà del gruppo in via gentile senza il capogruppo ma con una geografia che si intravede dalle sigle in calce alla nota. A fermare il documento sono Maurizio Bruno, Deborah Ciliento, Vincenzo Di Gregorio, Donato Metallo, Francesco Paolicelli e Lucia Parchitelli. Lo fanno confermando quello che definiscono l'attento operato di questi anni dell'onorevole del capoluogo e citando la sicurezza sul lavoro tra i temi sui quali porre maggiore attenzione in futuro a sciogliere gli altri nodi. Saranno gli incontri nella capitale, uno di questi in agenda già nelle prossime ore. La Carra, dal canto suo, godrebbe dell'endorsement di Michele Emiliano eppure di quella che una volta era l'area rinziana del partito, se così si può dire, compreso Antonio De Caro in alternativa. Potrebbe concretizzarsi un fronte più a sinistra con la brindisina Elisa Mariano, non ancora ufficializzato, senza contare che poi andrebbero al rinnovo anche le federazioni provinciali. A Lecce si è già proposto per l'avvicendamento Sergio Signore, vice sindaco del capoluogo Barocco, mentre per quella di Bari, dopo Baldo Pagano, ci potrebbe essere il vice capo di gabinetto della regione Domenico De Santis, candidato alle regionali, ma rimasto fuori dalla massima assemblea. E invece per quanto riguarda la città di Brindisi c'è un ingresso nuovo nel Consiglio regionale, quello di Carmelo Grassi, una grande soddisfazione per il capoluogo adriatico. Il presidente del teatro pubblico pugliese, il brindisino Carmelo Grassi, entra in Consiglio regionale dopo la nuova ripartizione dei seggi, che quindi fa scattare un posto aggiuntivo al territorio brindisino, con la città di Brindisi, che avrà quindi un proprio rappresentante. Con Carmelo Grassi sale a sé il numero dei consiglieri regionali della provincia di Brindisi, con Mauro Vizzino, Antonio Leoci, Fabiano Amati, Maurizio Bruno e Luigi Caroli. Devo ringraziare la buona sorte che questa legge elettorale è stata interpretata in maniera diversa e quindi ovviamente i resti sono andati a Brindisi e sono scattato. Quindi come terzo consigliere nella provincia e questo mi fa molto piacere, io spero di lavorare bene per il nostro territorio ma anche per tutta la regione, anche perché vorrei mettere a frutto l'esperienza di tanti anni in regione e quindi portare qualche cosa in più al nostro territorio. Tanti attestati di stima, tanto entusiasmo anche intorno a questo ingresso in Consiglio, questo è un buono spirito per iniziare a lavorare? Sì, sì, non c'è dubbio, sono tanti amici, quelli che hanno concorso alla mia elezione ma anche quelli no, non è un problema per me e io comunque cercherò di rappresentare tutti. Da dove si partirà? Il 30 novembre avremo il primo Consiglio regionale e vedremo un attimo quali sono gli argomenti da trattare, ovviamente lavorerò sul territorio che mi ha espresso in maniera particolare per poter cercare di trovare delle soluzioni ai problemi che ci affricano. E andiamo adesso a Molfetta, un atto da irresponsabile, questo il commento del locale sindaco Tommaso Minervini che si avvicina allo scioglimento del Consiglio comunale. La fine anticipata del mandato esclude la città dai finanziamenti del programma nazionale per la ricerca. Il Consiglio comunale di Molfetta è prossimo allo scioglimento, dopo quattro anni di mandato il sindaco Tommaso Minervini deve fare i conti con la crisi amministrativa che sta portando la città verso un nuovo commissariamento, un risultato che di fatto escluderebbe Molfetta dall'accesso ai finanziamenti del programma nazionale per la ricerca. Da qui parte la critica ma anche il rammarico del primo cittadino. Questo scioglimento anticipato del Consiglio e l'arrivo del commissario farà perdere un anno importante alla città di Molfetta in quanto in questi momenti tutti i comuni si stanno preparando alla richiesta dei fondi del PNR e quindi viene questa crisi, questo scioglimento in un momento veramente importante, storico per tutta l'Italia, il Mezzogiorno è Molfetta e quindi credo che sia veramente irresponsabile questo tipo di conclusione. Non può liquidarsi un'esperienza amministrativa, umana, importante, sociale, comunitaria così con un atto burocratico di 13 firme che si raccolgono e si portano un protocollo. In carica da luglio 2017 Minervini non nasconde le difficoltà durante il mandato dovute anche agli equilibri da mantenere all'interno del Consiglio Comunale, equilibri che non sempre hanno dato l'esito auspicato. Io ho lavorato sulle carte, sulla città, se mi posso rimproverare qualcosa è forse quello di aver avuto troppa fiducia e aver dato troppa autonomia alle persone, di essermi concentrato troppo sui problemi, la risoluzione dei problemi e forse di aver curato poco le relazioni, ma questo confidavo nella responsabilità di ciascuno, però devo prendere amaramente atto che questa responsabilità non c'è stata. Il mandato non si è ancora concluso ufficialmente ma il commissariamento ormai imminente apre la strada ad una nuova campagna elettorale che dallo scioglimento del Consiglio Comunale in poi diventerà la priorità in vista del 2022. La campagna elettorale è già in atto praticamente da parte di tutti i gruppi, quindi è praticamente già cominciata. E ci spostiamo a Barletta che volta pagina dopo le dimissioni dell'ormai ex sindaco Mino Cannito. Vediamo dunque qual è lo scenario politico che si sta progressivamente delineando. Si avvia alla conclusione la prima settimana dopo la caduta di Cosimo Cannito a Barletta, l'ormai ex sindaco sostituito venerdì dal commissario prefettizio Francesco Alecci, lascia in eredità una netta spaccatura tra due schieramenti, da una parte i suoi ultimi fedelissimi, dall'altra i 19 firmatari della mozione di sfiducia che hanno portato alla fine del mandato. Rimane salda e senza rimpianti la posizione di chi ha scelto di far cessare l'amministrazione comunale dopo cinque giorni in cui non sono mancati i commenti sui social da parte degli ormai ex consiglieri di entrambe le fazioni. Io sono orgoglioso di aver firmato e votato quella mozione e credo che chi mi conosce sa che andava fatto, quell'azione politica andava fatta. Purtroppo non possiamo fare altro che continuare a combattere, continuare a denunciare questo modo di fare politica che non ci appartiene. Il sindaco Cannito è stato eletto dai cittadini tre anni fa e aveva il diritto di continuare a governare. Le critiche si fanno a fine mandato, durante il mandato ma poi il bilancio si fa a fine mandato. Dire a metà mandato non hai realizzato questo, non hai realizzato quest'altro è quantomeno ipocrita. Ancora presto per parlare di campagna elettorale che inevitabilmente partirà nelle prossime settimane e si prolungherà fino alle amministrative della prossima primavera. La coalizione della sfiducia ripartirà dalle esposizioni dei rispettivi partiti valutando soltanto in seguito se ci sarà la possibilità di collaborare in vista del 2022. Non ci siamo sentiti ancora, anche perché noi del Movimento 5 Stelle siamo decaduti dal ruolo di portavoce, quindi consiglieri comunali, siamo dei semplici attivisti e prima di tutto valuteremo il da farsi con l'assemblea, con gli altri amici e poi valuteremo cosa fare, con chi allearci, se allearci e tutto indivenire. Resta il rammarico invece tra chi è rimasto al fianco di Cannito fino all'ultima seduta consigliare, situazione indivenire anche nell'ormai ex maggioranza che adesso dovrà conteggiare le forze da cui ripartire in futuro. Direi che siamo già in campagna elettorale, nel senso che adesso, in questo momento, noi siamo impegnati a spiegare ai barlettani ciò che è successo. Per la verità i barlettani l'hanno capito bene, basta farsi un giro in città, basta farsi un giro sui social. Il sentimento della città è abbastanza unanime, cioè c'è un dispiacere, una disapprovazione per ciò che è stato fatto. C'è una vicinanza e un affetto nei confronti dell'ex sindaco Cannito e io credo che di qua dobbiamo ripartire. La primavera è ancora lontana e molto dipenderà dalle direttive generali di ogni partito, senza dimenticare Michele Emiliano, che pure ha provato in vano a salvaguardare l'amministrazione Cannito. Dopo il weekend dei ballottaggi, a Barletta invece è tempo di guardare avanti e affidarsi per i prossimi mesi all'intervento del commissario prefettizio. In questi giorni abbiamo notato che il commissario prefettizio ha chiamato in maniera chiara ed esaustiva quella che sarà la sua funzione e i suoi compiti, quindi noi abbiamo estrema fiducia nel commissario prefettizio. Noi facciamo chiaramente i migliori auguri di buon lavoro al commissario prefettizio e confidiamo nella sua serietà, nella sua dedizione che certamente metterà nel fare ciò che li compete, cioè la ordinaria amministrazione e questo è sicuramente garanzia per tutti. E chiudiamo la paginone di politica parlando della Buona Destra Bari, partito nato a fine 2020 che si avvia alla convention fondativa di novembre. Si chiama Buona Destra ed è stato fondato nell'ottobre 2020, si avvia verso la convention fondativa del prossimo 13 novembre e se ne è discusso a Bari con una domanda sullo sfondo, perché serve una destra di governo? Dalle doppie all'indomani del turno di ballottaggi non abbiamo saputo interpretare il momento nello spirito di ripartenza del paese, fa autocritica anche Giovanni Toti da Coraggio Italia. La Buona Destra, presentata da Filippo Rossi, con al fianco l'ex ministro per le politiche agricole, sindaco di Lecce Adriana Polibortone, ha già un manifesto programmatico in 20 punti, obiettivo a una destra europea, spiegano che sappia a stenersi dal ricorso alla propaganda perpetua. Fondare anche in Italia finalmente una buona destra di governo, una buona destra che sappia prendersi le responsabilità di governo, che non investa solo sulla propaganda e non investa solamente sui sentimenti peggiori di tutti noi. In Italia manca una vera destra di governo, manca proprio un'offerta politica e quindi è necessario che si ragioni in maniera molto serena su questo, senza contrasti particolari, ma veramente con la razionalità dovuta in un momento in cui vediamo che c'è oltre metà della gente che in Italia non vota, e tantissima di questa gente, io sono certa che è gente di destra, che però non ha trovato il contenitore politico giusto nel quale potersi riconoscere. Ed una notizia di ultima ora di cronaca ad un agente della Cosmopol di Lecce, l'Istituto di Vigilanza è stata rubata una pistola d'ordinanza all'incirca un'ora fa e il fatto è accaduto sulla Lecce San Cataldo in due uomini con volto coperto si sono avvicinati dunque all'agente mentre era in servizio. Dell'episodio è stata informata la questura di Lecce, naturalmente vi daremo maggiori particolari nel corso delle nostre prossime edizioni, adesso parliamo della terza edizione di Puglia Capitale Sociale, 8,6 milioni di euro per finanziare le idee e i progetti innovativi delle associazioni del terzo settore. Diamo finalmente merito al terzo settore tutto che durante l'emergenza Covid si è impegnata tanto e ha probabilmente anche aumentato le sue spese in quanto è stata assolutamente dalla parte dei cittadini. Organizzazioni di volontariato, associazioni e fondazioni del terzo settore, dopo il duro lavoro svolto nei 36 mesi della pandemia la Regione Puglia mette mani al portafoglio sostenendo economicamente le associazioni che vogliono promuovere il welfare con progetti innovativi ed è in grado di dare nuova linfa al comparto e così Puglia Capitale Sociale 3.0 arriva per il terzo anno consecutivo con l'avviso finanziato a promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva e del welfare di comunità. Oltre 8,6 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, due le linee di finanziamento fino a 40.000 euro per progetti di innovazione e fino a 8.000 euro di rimborsi per spese sostenute. Nuovamente sfidiamo tutto il terzo settore a dar vita a progetti innovativi con un taglio sociale chiaramente che possono avere ricadute importanti sui nostri territori. Vogliamo che siano fermento per il nostro territorio dando vita a cittadinanza attiva, a progetti di welfare di comunità, a progetti innovativi che possano avere ricadute in modo da dar vita a un capitale sociale importante. E' un altro grave incidente coinvolto nel corso della nottata un militare della Guardia di Finanza che era in servizio al porto di Bari e più precisamente alla Varco Pizzoli. In particolare l'uomo è stato investito dal cancello che ha ceduto mentre si stavano completando le operazioni di uscita di un mezzo pesante con un carico eccezionale. Il militare della Finanza ha riportato delle fratture agli arti inferiori, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato alla Policlinico di Bari. Anche in questo caso maggiori informazioni nel corso delle nostre prossime edizioni. E adesso parliamo della Regione Puglia. Si è conclusa la missione istituzionale per la delegazione a Dubai. Trampolino di lancio per la corsa verso l'innovazione. Buone le premesse, ha detto il Governatore Michele Emiliano, grazie ad un programma di aiuto agli investimenti. Si è conclusa la missione istituzionale della delegazione della Regione Puglia a Dubai. Nell'ultimo giorno di appuntamenti l'assessore allo sviluppo economico dell'Inoci ha incontrato ai vertici di Dubai Airport Frieson, una zona economica franca che supporta l'insediamento delle società. Costruire queste relazioni ci può portare non solo opportunità di scambio intercontinentale, ma provare a costruire quelle relazioni che possono ottenere le nostre regioni investimenti e fare in modo che le nostre imprese possano investire qui grazie agli sgravi fiscali che ci sono. A fine lavori il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ringraziato l'Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti per l'assistenza ricevuta. L'ultimo appuntamento, l'Innovation Talk, creare il futuro, i trend per la manifattura di domani. La Puglia da molti anni sta puntando sull'innovazione, unico modo per recuperare lo svantaggio con le regioni più progredite d'Italia e d'Europa. Abbiamo utilizzato soprattutto le relazioni con le università e quindi costruiremo immediatamente con loro le condizioni utili a una collaborazione, ha detto Emiliano. In Puglia abbiamo un programma di aiuto agli investimenti permanentemente aperto che consente di utilizzare fondi europei e di collegarli ai fondi privati senza limite di tempo. Ogni persona, ogni società che ha una buona idea può domani mattina cominciare a lavorare con noi. E torniamo a Brindisi dove si è parlato di decarbonizzazione nel corso di un convegno promosso dalla locale Confindustria. Trasformare la programmazione in azione. Su questo tema si sono confrontati a Brindisi presso il Castello Svevo il mondo imprenditoriale e istituzionale sull'importante passaggio di decarbonizzazione legato alle opportunità finanziarie del PNRR. Un incontro promosso da Incico e Confindustria che punta a dare un passo diverso e più rapido a questa fase di transizione economica e ambientale puntando ad una ripresa post-Covid sostenibile. Il problema è del permitting. Le aziende, le nostre aziende, questo territorio ha cominciato a decarbonizzare prima di tutti gli altri. Abbiamo l'esempio di A2A, l'esempio di Enel. C'è la decarbonizzazione qui a Brindisi, la transizione energetica è iniziata. Forse mi verrebbe da dire che un merito ce l'abbiamo un po' tutti e forse qualcuno dovrebbe riconoscere anche a Brindisi il ruolo di territorio sicuramente nel settore energetico più avanzato rispetto agli altri. C'è un progetto molto interessante che mi è stato presentato da FALC che riguarda un campo eolico a largo offshore col quale ovviamente il tema della produzione energetica da fonti rinnovabili è praticamente nel territorio a mio avviso sostanzialmente risolto qualora dovesse andare in porto nel senso che sarebbe un impianto da 1200 MW che potrebbe ovviamente fornire energia alla rete ma fornire anche quell'energia necessaria anche alla produzione dell'idrogeno. Adesso lo vedremo nel dettaglio. Poi ci sono i progetti di riconversione di Enel io quello che dico in questo momento manca un attimo l'appello diciamo i progetti di riconversione del petrolchimico. E adesso parliamo di agricoltura speculazione sui prezzi intervenga immediatamente l'antitrust a chiederlo è appunto la Confederazione degli Agricoltori di Capitanata alla luce dell'escalation inarrestabile dei prezzi. Ci siamo trovati di fronte all'aumento del barile del petrolio con aumenti secondo noi sproporzionati che vanno dal 25% e toccano anche il 40%. La particolare situazione economica globale non sta risparmiando il settore agricolo in cui di recente si sono registrati degli aumenti spropositati dei costi dalla luce ai mangimi, dai concimi al gasolio a lanciare l'allarme la Confederazione Italiana degli Agricoltori di Capitanata che richiede l'intervento immediato dell'antitrust al fine di tutelare la concorrenza e vigilare sugli abusi di posizione dominante. Dopo lo stop dovuto alla pandemia si è verificato una vera e propria impennata dei costi energetici, della plastica un aumento considerevole dei prezzi per i trasporti una difficoltà crescente per reperire mano d'opera. Questa situazione, affermano dalla Confederazione appesantisce il canale distributivo che si vede costretto a dipendere dai cambi delle valute monetarie e dalle scelte dei produttori mondiali con gravi ripercussioni economiche. Questi aumenti sicuramente incideranno sul reddito di ogni azienda vanificando qualche aumento che si è verificato su qualche prodotto agricolo. In che modo l'antitrust può dare delle risposte e in che modo i consumatori stanno in questo momento percependo questo slittamento di prezzi? Noi aspettiamo, ci aspettiamo che l'antitrust verifichi e ci dia quando prima una risposta ecco per i consumatori, giustamente i consumatori noteranno qualche aumento però la maggior parte degli aumenti non dipende dal mondo agricolo. Quali prodotti? Sicuramente ci sarà un aumento del pane quindi bene primario sui prodotti che derivano dal grano però ecco, secondo i nostri calcoli in un anno per una famiglia media più di 30-40 euro di aumento per quanto riguarda pasta e pane non dovrebbe aumentare. E adesso passiamo alla fascia pubblicitaria e poi torneremo in studio con gli altri servizi.